di elementi che poi diventeranno quelli importanti fino alla fine signori ed eccolo, colui che ci ha fatto e ci ha permesso di vivere un momento lunghissimo di adrenalina dal luna, dal nulla, spunta lui, un anonimo ibrido, cucciolo, chiamiamolo cucciolo un meticcio che guardate come va in carreggiata, insegue la macchina, corre come un matto la cosa è incredibile e ve lo ripeto con tante problematiche di sicurezza, le moto, i ciclisti ma il cane non ne vuol sapere di uscire dalla scia ed è a questo punto l'eroe della giornata perché tira il gruppo, noi abbiamo delle immagini che non sono continue perché abbiamo dovuto fare una bella schrematura, ma ha corso per oltre un chilometro e mezzo a questa andatura, ha superato i 40 chilometri orari e guardate non ne vuol sapere di uscire adesso è in mezzo alla polstrada, ripeto questo è un momento molto delicato con tanti rischi per tutti, ma lui, la sua corsa è spettacolare le orecchie al vento, tirate in modo aerodinamico, salza ancora la frequenza della sua corsa spettacolare, il suo primo piano continua, non ha la bava alla bocca in questo momento aumenta la corsa, giustamente, l'andatura dei corridori lui pian piano desiste, ma non molla, guardate, qualcuno gli avrà fatto qualche gesto incredibile ed è importante la capacità dei corridori di rimanere freddi ecco, lui in questo momento viene superato dalla carovana dei corridori e tiene ancora il passo, ma desiste grazie